Ciao a tutti, buonasera a tutti e benvenuti al Tableau User Group di Roma, questo evento per i radio che svolgiamo. Qui con me c'è Pietro Argentini, co-leader del Tableau User Group di Roma, e poi anche Luca Mono e Luigi Doriso De Teo, che sono i relatori di oggi. Per chi non ci conoscesse, vi raccontiamo chi siamo. Siamo la community di Tableau con lo scopo di fare sostanzialmente networking tra tutte le persone che risiedono a Roma e dintorni. Poi ovviamente col fatto che purtroppo questi incontri sono online e attacca sono aperti veramente a chiunque. L'obiettivo principale non è quello di fare branding, ma semplicemente quello di condividere il più possibile il proprio know-how, perché crediamo fortemente che la condivisione del know-how sia lo strumento migliore per migliorarsi e crescere tutti. Quindi nel Tableau, nel mondo della Data Visualization e nel mondo dei dati in generale. I leader di questa community sono io, Davide Liberti, che sono il team leader per Ecomedia dell'area di Roma, nonché sono anche co-leader del Tableau User Group di Roma, e con me c'è Pietro Argentini, responsabile del biaria della BI per Ecomedia. Dove ci trovate? Ci trovate sicuramente su LinkedIn, cercate la pagina Roma Tableau User Group, oppure con l'hashtag RomaTug. Siamo all'interno della community di Tableau, quindi del forum di Tableau, e abbiamo un canale Slack dedicato per qualsiasi necessità diretta. attraverso questi QR code, se volete, direttamente rinderizzati alle pagine sia alla community che a Slack. I nostri eventi. Svolgiamo eventi periodici, un po' come tutte le community mondiali di Tableau, tendenzialmente ogni trimestre. Quello che ci contraddistingue rispetto ad altri è che è la community che si mette in gioco, quindi è la community stessa che richiede di approfondire determinati temi e magari ne riparla anche e li presenta al resto della community. E quindi oggi ho il piacere di aver qui con noi Lugamonno e Luigi Doriside Lefeo, che sono di Cassa Repositi e Prestiti, e vi parleranno della sostenibilità dei dati, quindi dell'importanza dei veritati sostenibili, e di come con questi dati bisogna fare una creazione rapida dei prototipi per il backup management. Dopodiché io e Pietro vi racconteremo perché aggiornare a Tableau 2020, quindi quelle che sono alcune delle principali funzionalità che a nostro avviso sono molto importanti e facilitano anche un po' il nostro lavoro. Luca, Luigi? Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Luca Manno, come vedete sono in Cassa Depositi e Prestiti e mi occupo di Financial Analytics nell'ambito di finance, quindi in particolare del settore dell'asset liability management. ho due attività principali, una è strettamente legata al Tableau e riguarda la costruzione di tool di monitoraggio, che appunto facciamo attraverso Tableau. Luigi? Ciao a tutti, io sono Luigi Doriside Lefeo e lavoro da qualche anno a questa parte in Cassa Depositi e Prestiti, nell'ultimo anno, in particolare nell'IT come IT Specialist e Data Systems nella gestione del Data Warehouse aziendale identificato come Enterprise Data Hub. Ok, ragazzi io vi lascio la parola, quindi interrompo la mia condivisione e ci sentiamo dopo. Perfetto, grazie. Allora, inizio io con un aneddoto, diciamo l'intervento di oggi nasceva un po' da un modo di lavorare che abbiamo iniziato ad adottare, almeno in Cassa, da diversi anni, in particolare per quello che mi riguarda in un tempo abbastanza recente. L'aneddoto che vi voglio raccontare è un fatto, diciamo, ovviamente accaduto a noi e riguarda, diciamo, una dashboard, un tool di monitoraggio che avevamo sviluppato e avevamo presentato al nostro manager. Il tool di monitoraggio era, diciamo, doveva andare a utilizzare dei dati previsionali e proiettarli, diciamo, attraverso una dashboard che consentisse di vedere vari livelli di dettaglio. Dati, ovviamente, previsionali, come dicevo, tutto molto condiviso col management, ma quando poi siamo andati a presentare la dashboard c'è stata un po', diciamo, come dire, una doccia fredda perché abbiamo, diciamo, il manager di turno ci ha fatto osservare che non gli servivano niente, nonostante, diciamo, nonostante avessimo già condiviso, no? Quindi, diciamo, questo, diciamo, ci ha fatto un po' ripensare a tutto quello che avevamo fatto e questo ci ha fatto anche cambiare, diciamo, la modalità di lavoro. Come è nato, diciamo, questo misunderstanding che, diciamo, noi dovevamo presentare i dati previsionali ma, diciamo, il manager giustamente diceva, beh, ma mi fate vedere i dati previsionali ma non mi fate vedere il consultivo. Domanda più che lecita, ovviamente, del lato nostro erano due basi dati completamente diversi e quindi andava un po', diciamo, come dire, rivisto completamente tutto il processo che avevamo installato fino a quel momento, tutta la base dati che avevamo costruito. Nonostante questo non ci siamo scoraggiati, abbiamo lavorato, diciamo, grazie all'infrastruttura che avevamo, di cui vi parlerà fra poco Luigi, abbiamo lavorato e abbiamo costruito una base dati al volo in poche ore. qua c'è tra i partecipanti Arianna Sedaro che ci ha dato una bella mano da questo punto di vista e in poche ore abbiamo costruito una base dati che andasse a unire due database completamente diversi neanche una chiave in comune e abbiamo presentato un prototipo che poi nell'arco di uno o due giorni abbiamo rifatto vedere al manager. Questo prototipo è diventato poi, diciamo, di un workbook che conteneva sei, sette slide, sei, sette dashboard, è diventato poi di fatto la dashboard principale e è stato anche molto apprezzato. Diciamo, questo, come, diciamo, questo netto è un po' un insegnamento, è stato un po' un insegnamento per noi perché ci ha consentito di, come dire, capire un po' meglio come poter lavorare e come raggiungere meglio l'obiettivo e essere anche molto più flessibili, diciamo, nella costruzione di prototipi e quindi di tool che poi possono essere utilizzati in produzione con un certo successo. Condivido alcune slide che ci saranno un po' di supporto. Datemi un secondo e poi lascio la parola a Luigi. Vedi Luigi? Sì, io vedo. Vado io, Luca. Sì, se puoi andare avanti già direttamente sulla prossima. Sì, in pratica nell'ambito di questa presentazione congiunta avete ascoltato Luca e continuerete ad ascoltare anche successivamente che racconta un po' la visione dal punto di vista del business, quindi, diciamo, dell'utente finale per quanto riguarda un progetto di reportistica. Quello che volevo raccontarvi io era un po' quello che accadeva dietro le quinte visto che, diciamo, è un'attività che non spesso gode delle luci della ribalta, però, diciamo, è fondamentale poi per la determinazione di un output che possa effettivamente determinare un valore aggiunto. Come dicevo prima, nella parte di presentazione, io lavoro all'interno dell'ICT di Cassa Depositi e Prestiti da circa un anno. Dopo aver passato due anni all'interno di una funzione di controllo dell'interna l'audit, probabilmente stavo espiando qualche colpa di qualche vita passata e quindi, diciamo, sono stato anche fruitore di servizi che venivano messi a disposizione da parte dell'ICT di Cassa Depositi e Prestiti. Adesso faccio parte di questo gruppo che si occupa, diciamo, come mission, quella di determinare un sistema di gestione dei dati che possa essere il più sostenibile possibile. Come lo fa? Mediante questi quattro pillar che ho provato a rappresentare all'interno di questa slide che poi, diciamo, sono anche presenti nel funzionigramma aziendale, quindi, diciamo, sono le attività core del nostro gruppo. Quindi il primo è un'attività di centralizzazione del dato che dovrebbe portare poi ad avere un'uniformità e una determinata qualità dei dati aziendali e, diciamo, il gruppo funge anche da presidio unico aziendale per il governo e per la gestione dei dati. In pratica facciamo da pivot per tutte le richieste di automatizzazione di sistemi di reportistica. A livello superiore, da un punto di vista architetturale, quindi c'è tutta l'attività di Data Analytics che facciamo che poi essenzialmente sfocia nella creazione di sistemi di reportistica e trasversalmente a tutte queste attività c'è sempre un discorso relativo alla sicurezza. Diciamo, tutte le attività vengono fatte in linea poi con le polisi e regolamenti aziendali relativi alla classificazione e alla gestione delle informazioni. Per quanto riguarda le attività, diciamo che essenzialmente quello che attualmente in produzione sono circa un numero pari a 90 dashboard con 446 report e sta prendendo sempre più piede l'attività di un storytelling in sales service che viene fatto direttamente dall'utente finale. Tutto questo come è possibile se puoi andare sulla slide successiva Luca ti utilizzo come driver è reso possibile dal fatto che più che un enterprise data hub a me piace definirlo un enterprise data lab perché nelle modalità poi di deploy assomiglia molto più a un laboratorio rispetto a un gruppo tra virgolette istituzionale e infatti nelle modalità di deploy classico che portano dall'attività di sviluppo a quella di produzione tutta l'attività di sviluppo che in questo caso ho indicato come studio viene dove ovviamente è possibile demandata alle attività di business o diciamo all'owner del dato come in pratica quello che abbiamo fatto è stato aprire il modello dei dati e aprire il mondo dei dati e dei modelli direttamente alle unità di business che nella maggior parte dei casi conoscono i dati molto meglio rispetto a quanto possa fare l'IT e quindi questo ci permette diciamo di abbattere i tempi di sviluppo perché tutta la parte di data exploration di trasformazione dei dati di creazione del modello e poi di testing lo facciamo direttamente tramite le unità in questo caso come quella di Luca di business ma anche diciamo con altre unità organizzative di cassa depositi e prestiti e dove entriamo noi entriamo nella parte di collaudo diciamo un'attività di ingegnerizzazione del software dove ovviamente è necessario e poi con la parte di messa in produzione che ovviamente scusate che ovviamente diciamo viene fatta in linea con gli standard di sicurezza di deploy e poi di schedulazione che sono tipici dell'architettura di cdp il tutto Luca se puoi andare alla prossima il tutto è anche reso possibile da un'architettura che non è la tipica architettura diciamo relativa ad ad up che ho visto nelle altre realtà infatti nelle attività nella mia precedente vita addirittura ancora prima dell'interno l'audit quando lavoravo all'interno delle social di consulenza per istituzioni bancarie diciamo la parte di big data era vista come una costola dell'etl e in realtà questo poi era un sentimento che ho ritrovato anche nei miei colleghi diciamo è una visione che avevamo rispetto a quello che vedevamo in varie istituzioni bancarie cdp non è un'istituzione bancaria però ci si avvicina molto in realtà il mondo di ad up è più centrico all'interno dell'architettura infatti come dicevo prima per la parte di studio è direttamente collegata tramite delle sandbox su cui gli utenti finali possono leggere il dato centralizzato certificato integro e con un determinato livello di qualità ovviamente diciamo tutta la parte di reportistica che viene fatta con Tableau è direttamente collegata a tutto il mondo ad up per la parte di etl facciamo riferimento a Talent e ultimamente stiamo inserendo nel pacchetto diciamo di offerta anche Kafka per la gestione in tempo reale dei flussi informativi si può andare alla successiva scusa Luca diciamo che l'ultima esperienza che abbiamo vissuto e l'ha vissuta sulla sua pelle anche Davide direttamente è stato un processo che poi è stato definito un processo sostenibile ed ha riguardato l'automazione del processo di reportistica dell'unità organizzativa acquisti diciamo è un progetto che ha avuto dei tempi estremamente stretti però in virtù dell'architettura che ho descritto prima e anche del fatto di lasciare molta parte dell'analisi alle unità owner del dato è stato possibile quindi diciamo portare andare in porto con questa attività in tempi molto molto ristretti quindi quello che è stato fatto è stato integrato tutto l'enterprise da tab con il DB applicativo quindi col sistema gestionale in questo caso stiamo parlando di SAP tramite un'estrazione giornaliera di alcune informazioni di report che venivano utilizzati poi su Excel dai referenti dell'unità acquisti il tutto è stato arricchito con le modalità di riclassificazione che venivano poi gestite in autonomia dalla struttura owner del dato acquisti in questione e quindi tutto questo pacchetto viene messo a disposizione su IDH non solo per l'unità organizzativa acquisti ma in realtà la sostenibilità sta proprio nel fatto che è un processo che poi viene messo a disposizione di tutta la società infatti già a altre unità organizzative mi viene in mente pianificazione e controllo di gestione ma anche funzioni di controllo come l'audit o come compliance attingono i dati di acquisti per generare la loro reportistica il tutto è poi sfociato in un certo numero di indicatori che andavano a monitorare il transato ai volumi degli ordini di acquisto ma anche il timing cioè il tempo che veniva impiegato ad una richiesta d'acquisto fino ad arrivare alla controfirma del fornitore quindi veniva monitorato un'attività che prima non poteva in alcun modo essere fatta veniva monitorato viene adesso monitorato tutta la filiera del processo acquisti ovviamente la sostenibilità non è solo a livello di dato ma anche a livello di server perché con un'opportuna profilazione a livello server i vari utenti e questo sarà lo step 2.0 quindi Davide già ti sto preannunciando di prepararti su questa attività verrà messa a disposizione la dashboard opportunamente profilata in maniera tale che i vari utenti potranno vedere i loro ordini che sono in scadenza pensare all'eventuale attività di rinnovo fare un'analisi che è proattiva rispetto a un'analisi più passiva che veniva fatta in precedenza però magari a questo punto ripasso la parola a Luca sulla che vi parlerà esatto della dashboard per Excel ecco allora come dicevo all'inizio diciamo nell'ambito della nostra attività c'è lo sviluppo di tool di monitoraggio che in alcune occasioni sono dei tool che rimangono a disposizione di risorse operative per il lavoro quotidiano in altri casi sono invece dei tool che vengono dati agli manager agli executive e sono quindi devono essere dei tool che hanno ovviamente hanno degli scopi sostanzialmente diversi e in questa occasione ci piaceva presentarvi un tool che abbiamo costruito recentemente e con l'occasione anche darvi diciamo qualche condividere qualche esperienza darvi qualche consiglio basato su quello che abbiamo visto noi diciamo nell'ambito della nostra attività su come sul miglior modo per costruire delle dashboard per diciamo degli executive quindi diciamo risorse diciamo non operative switch direttamente alla dashboard allora piccola premessa questa diciamo è una dashboard che noi abbiamo diciamo veramente utilizziamo veramente in cassa ovviamente non i dati che vedete sono tutti dati fake quindi abbiamo perso un po' di tempo per diciamo ricostruire una base dati che possa essere ragionevole ma non dare informazioni riservate però diciamo vi posso assicurare che diciamo esattamente quello che utilizziamo noi ed è un frutto di un lavoro diciamo abbastanza recente qui vediamo diciamo quattro quattro quadranti in altra stessa di distra vediamo i principali effetti di bilancio quindi vediamo come si è modificato il bilancio da due date data di riferimento e una data di confronto che è tipicamente una data nel passato e quindi vediamo come per esempio sono aumentati o sono diminuiti i vari prodotti che abbiamo quindi diciamo un manager tipicamente di alto livello potrebbe essere responsabile finanza un CFO potrebbe attraverso diciamo questa dashboard monitorare che cosa sta succedendo quindi abbiamo fatto più titoli ci sono meno conti correnti abbiamo fatto più raccolta e diciamo in questo modo riesce a monitorare su base quotidiana quello che sta succedendo qua in alto a destra invece vediamo un altro un altro spunto che è quello delle previsioni di margine come potete immaginare l'utile di una banca che è composto da varie cose tra cui diciamo tra vari componenti tra cui il margine di interesse e il margine di intermediazione il margine di interesse sarebbero semplicemente la differenza tra gli interessi passivi e gli interessi attivi qui diciamo questa è la dashboard questo quadrante qua esattamente quello che io vi raccontavo all'inizio come aneddoto noi abbiamo fatto una dashboard che con vari diciamo un workbook con varie dashboard che andava a lavorare sul previsionale ma stavamo al 30 settembre e diciamo con questa dashboard permetteva di capire quanta parte del risultato dell'anno avremmo fatto dal mese di ottobre in poi ovviamente questo non associato a dei valori di consultivo era poco utile per un manager era più utile per una persona operativa che magari lavorava sulle previsioni in modo molto frequente voleva vedere quanto si discostano da un mese o dall'altro le previsioni la sensitività e altre questioni di questo tipo invece il manager non è interessato solo le previsioni ma vuole sapere esattamente dove arriverà a fine anno e questo è quello che è stato possibile costruire grazie a tutta l'infrastruttura di cui avevi parlato poco fa Luigi cioè la sostenibilità del dato passa anche da una come dire facilità di utilizzo e condivisione non solo da parte di risorse di team ma anche da parte di risorse business quindi diciamo noi in totale autonomia noi che lavoriamo nel business abbiamo potuto nell'arco di poche ore costruire una base dati quindi attraverso una sandbox che avevamo a disposizione abbiamo costruito una base dati sfruttando diverse tabelle del nostro data hub del nostro data lake e unendole in un'unica tabella su quale poi andava a puntare questa questa riportistica questo ripeto diciamo non è una cosa scontata non c'è dappertutto la possibilità che diciamo risorse operative non IT possono avere questa come dire disponibilità del dato e questa possibilità di lavorarci poi in basso a sinistra vediamo altre altre due di basso vediamo dove vediamo in basso a sinistra la riserva di liquidità quindi qua riusciamo a monitorare quanta liquidità abbiamo a disposizione sia in termini di liquidità effettiva sia di liquidità potenziale che potremmo andare a richiedere presso per esempio la banca centrale attraverso le operazioni come il quantitative easing prestito a fronte di una garanzia a destra invece diciamo come evolve la nostra liquidità nel tempo quindi vediamo le previsioni a un giorno una settimana due settimane tre settimane dei flussi di liquidità e possiamo vederla anche a diverse date qui diciamo la base dati è fake quindi diciamo ci sono due singole date quindi data data di confronto e data di riferimento diciamo nella versione quella in produzione qua io posso andare a scegliere una data e ottenere diciamo la stessa situazione che vedo qui per una data diversa vediamo un po' torniamo alla presentazione quindi diciamo come diciamo come può avvenire un processo di design di una dashboard allora diciamo la prima cosa è diciamo dobbiamo capire bene il target che abbiamo di fronte quindi diciamo oggi ci concentriamo magari su un target executive quindi diciamo manager però questo è fondamentale bisogna capire esattamente per chi state preparando una dashboard perché diciamo magari l'errore che abbiamo commesso noi in passato come raccontavo nell'aneddoto è magari concentrarsi su una dashboard che potesse essere utilizzata sia dal manager che da risorse operative in realtà dobbiamo avere abbastanza caro il focus e fare qualcosa di specifico per il nostro target questo perché perché diciamo rischiamo di fare tanto lavoro che magari può essere poco apprezzato rischiamo che poi tecnicamente la dashboard magari allenta perché ci sono troppi dati che al manager non servono e quindi può essere diciamo magari poco poco appealing a lungo andare per chi per il manager nel design dobbiamo anche capire diciamo dobbiamo avere in mente che tipo di persona è che tipo di persone sono le persone che andranno a utilizzare questa dashboard faccio un esempio ci sono tanti manager soprattutto nell'ambito CFO finanza a cui piacciono le tabelle quindi generalmente strumenti data visualization sono fatti proprio per evitare le tabelle non è detto che bisogna come dire evitare la tabella come come la morte perché in alcuni casi può essere uno strumento molto utile per comunicare soprattutto se la persona che la riceverà è una persona che preferisce questo come strumento di comunicazione ovviamente devono essere tabelle semplici non possono essere tabelle troppo complesse se no si perde un po' la potenzialità dello strumento ma diciamo non è l'unica cosa non è diciamo non è da escludere e poi bisogna costruire un prototipo ecco diciamo sul prototipo questo è un punto abbastanza importante spesso si fa diciamo uno a mente una dashboard inizia a fare questo vale per la dashboard ma vale per qualsiasi tipo di prodotto inizia a costruire il prodotto o la dashboard in questo caso secondo diciamo quello che ha in testa cura ogni minimo dettaglio perde magari settimane mesi di lavoro poi presenta la dashboard o il prodotto che sia e si accorge che magari diciamo potrebbe essere diciamo il risultato che ha fatto tanto lavoro inutile perché vengono chieste delle modifiche nell'ultimo momento oppure magari non si è azzeccato esattamente il target o alcune cose che erano state fatte sono superflue e quindi diciamo qua il consiglio che mi sento di dare è lavorate molto su un prototipo un prototipo che deve essere ovviamente non curato al minimo dettaglio e cercate di testare il prototipo il più possibile come si testa il prototipo diciamo qua noi facciamo sempre internamente facciamo quello che si può chiamare un corridor test che diciamo una volta si chiamava corridor test perché prendevi un collega sul corridoio e gli chiedevi ma senti che ne pensi in realtà adesso diciamo il corridoio non c'è più che se noi possiamo fare un test del pianerotto con i vicini di casa in realtà diciamo battute a parte il prototipo va fatto vedere diciamo risorse che magari non sono super esperte della materia quindi magari non è il collega che ci ha lavorato insieme a te o qualcuno che capisce subito la dashboard vedendola che con un colpo d'occhio ma deve essere qualcuno che ha sì diciamo consapevolezza della materia ma non deve essere neanche diciamo come dire il super esperto questo perché perché diciamo magari ecco gli executive possono essere diciamo come dire non super esperti dei dettagli della materia quindi diciamo bisogna confrontarsi con persone che possono darti un feedback che potrebbe esserti effettivamente utile se faccio un esempio mettiamo una rappresentazione molto complessa di un dato chi è molto diciamo dentro la materia può in qualche modo non rendersi conto della complessità della rappresentazione la capisce subito invece magari un un executive diciamo che ha un miliardo di cose in testa cinque secondi magari per comprendere la dashboard può avere diciamo difficoltà e questo quindi diciamo questo può essere utile questo per quanto riguarda il design e poi c'è quello che riguarda l'implementazione l'implementazione diciamo qua diciamo ci sono tre quattro elementi che sono abbastanza importanti secondo me in una dashboard che sono quella della semplicità la pulizia la velocità e poi diciamo il quarto è un effetto sorpresa parlo subito del quarto che diciamo è abbastanza semplice per effetto sorpresa qui intendiamo diciamo qualcosa che magari non si aspettano nella dashboard ma che appare magari con un masover un click da qualche parte spesso ci siamo resi conto nelle presentazioni che abbiamo fatto di dashboard che diciamo mettere un tooltip che appariva con un po' di informazione in più poteva cambiare sostanzialmente diciamo il risultato complessivo della dashboard andiamo un po' più nel dettaglio quindi alcune cose diciamo per quanto riguarda il design ve lo ho già raccontato quindi focus molto attenti al focus bisogna concentrarsi sui contenuti effettivamente utili per le persone che sono diciamo che riceveranno la dashboard questo diciamo è importante anche a livello di velocità se noi utilizziamo una dashboard con decine di tabelle sottostanti ovviamente sarà una dashboard più lenta se di queste dieci tabelle ci rendiamo conto che una sola viene effettivamente utilizzata una sola è veramente importante diciamo le altre nove le possiamo semplicemente buttare perché potrebbero essere si utili ma non per quel tipo di target ma per qualcun altro poi diciamo anche a livello di design è anche importante capire l'utilizzo cioè come diciamo come riceveranno questa dashboard sarà una dashboard che verrà inviata per pdf a quel punto se è un faccio un esempio se è un pdf se dobbiamo poi salvare una dashboard e inviarla in pdf perché sappiamo che chi la riceverà si guarda apre solo le mail non c'è speranza che faccia un click neanche da qualche parte allora a quel punto diciamo tutti diciamo le componenti tooltip collapsible container cose diciamo più inter tutta la parte interattiva ecco delle dashboard qui la viene un po' meno e dobbiamo un po' ristudiarci la dashboard proprio per cercare di mettere informazioni che possono essere contenute effettivamente in un pdf se invece è diciamo una versione web su desktop con un'app sul dispositivo mobile possiamo ovviamente sbizzarrirci con tutta la parte più interattiva per quanto le modalità di sviluppo dicevo ripeto un prototipo estremamente importante il prototipo ci aiuta moltissimo anche a non affezionarci troppo a dashboard cioè se voi fate un prodotto cioè perdete un mese di tempo lo curate nei minimi dettagli non potete fare a meno se vi piace il vostro program non potete fare a meno di affezionarvi e ricevere poi un commento negativo in una fase diciamo troppo avanzata dello sviluppo ovviamente può essere un problema e quindi magari vi mettete sulla difensiva quando vi arriva un commento invece fare un prototipo perderci poco tempo magari utilizzando dati fake anche un csv delle tabelle fatte al volo sulla sandbox e testarlo con i colleghi in una fase iniziale vi permette anche di evitare questo effetto andiamo un po' su su un po' di consigli allora alcune cose ve le dicevo già consiglio di separare i report operativi dai report executive questo anche per una questione di velocità ma non solo velocità ma anche una questione di target se presentate un workbook con diciamo 20 dashboard e potete essere tranquilli che diciamo una risorsa al massimo arriva alla prima se non alla seconda quindi diciamo tutto il resto potete semplicemente levarlo perché non lo leggeranno mai solo grafici e informazioni necessarie rimuovere gli eccessi allora diciamo qua spesso spesso si tende a mettere tanta roba in unica dashboard tante informazioni una per esempio che qui faccio sempre riferimento vedo spesso dei grafici dove ci sono magari un bar chart ecco prendiamo un bar chart dove vediamo sia il label quindi le etichette sopra le varie bar sia l'asse delle y con tutti i valori no qui di fatto state dando due volte la stessa informazione se avete un bar chart dove con 3, 4, 5 barre quindi un numero residuo di barre potete semplicemente mettere etichette se avete centinaia di barre ovviamente non potete mettere le etichette perché sarebbero troppe allora potete mettere semplicemente l'axis andare a mettere sia l'axis che il label va a inserire nella dashboard tanti numeri che poi alla fine danno un effetto molto forte di confusione spesso si tende anche a mettere nella dashboard tante informazioni cioè noi per esempio facciamo rappresentazioni diciamo di dati molto complessi e quindi ci viene voglia spesso quando lavoriamo su powerpoint di mettere tanti disclaimer spiegare il dato nel modo più possibile fare approfondimenti qui dobbiamo un po' forzarci tenere diciamo fare grafici estremamente semplici e eventualmente giocare se abbiamo a disposizione una versione interattiva con un po' di tooltip sapete che tramite il tooltip diciamo si possono anche mettere dei grafici all'interno quando si fa il tooltip avere dei focus degli approfondimenti nelle ultime versioni di Tableau c'è anche la possibilità di fare dei collapsible container cioè dei container che scompaiono secondo diciamo alcune regole e anche quello ti può dare diciamo la possibilità di vedere o meno un diciamo come dire un grafico un'analisi che avete preparato altri consigli sempre diciamo su questa falsarica diciamo io sono un po' pignolo su certe cose per esempio le dimensioni dei caratteri vedo spesso diciamo delle dashboard delle presentazioni dove vengono state varie dimensioni di caratteri il font faccio un esempio arial 12 poi da un'altra parte da arial 13 a arial 15 a arial 11 questo diciamo a lungo andare crea comunque un po' di fastidio per le persone che vedono la dashboard diciamo non se ne accorgono non se ne accorgeranno mai che ci sono magari tanti font diversi però vi posso assicurare che diciamo che dà una sensazione diciamo di diciamo di un po' di annoia ecco oppure per esempio presentare lo stesso tipo di grafico per rappresentare informazioni diverse cioè se avete la stessa dashboard in cui usate un bar chart per utilizzare varie informazioni concettualmente diverse può confondere e poi diciamo anche come sui font anche sui colori stessa regola usare decine di colori su una su una dashboard può ovviamente dare un po' di fastidio qua se avete una corporate identity cercate ovviamente di rispettare i colori della vostra corporate identity magari vi limita un po' sui colori però sicuramente dà una visione un po' più semplice un po' più plain di quello della dashboard che potete che potete rappresentare ecco questo è quello che intendevo diciamo quando parlavo di cose diciamo che si possono risparmiare io mi ricordo che diciamo un altro piccolo aneddoto diciamo lavoravo da un paio d'anni portai un powerpoint al manager di turno che aveva diciamo i numeri in milioni di euro e poi c'era virgola zero zero mi fece ristampare tutta la presentazione perché diceva ma ti stai presentando i numeri in milioni di euro che senso mettere anche decimali quindi diciamo questo è proprio un esempio di ciò che non si deve fare cioè qua i colori sono abbastanza inutili tre colori sono abbastanza inutili tante cifre decimali tanti diciamo il label e diciamo label e axis insieme non danno diciamo dire danno informazioni che poi sono come dire duplicate e poi diciamo gli ultimi consigli sulla velocità soprattutto se andate verso risorse executive la velocità qui è importante considerate che se un executive si trova ad aprire una vostra dashboard e ci mette anche solo due tre quattro secondi è già è già troppo quindi a volte i dashboard possono essere molto complessi se le basi dati sono elevate però dovete cercare in tutti i modi di fare qualcosa che sia snello quindi si terapia si terapia subito se ci sono dei filtri non deve perdere un minuto per passare da un filtro all'altro quindi diciamo ci sono diverse cose a cui dovete stare attenti per fare in modo che che possano essere diciamo che possa essere una una dashboard snella diciamo alcuni consigli diciamo anche qui vi servono tutte le fonti di dati avete pensato bene una dashboard che contiene solo le informazioni per la risorsa executive o una dashboard operativa che magari contiene tanti livelli di dettaglio semplificando vedrete che anche la base dati che utilizzate potrebbe essere una base dati molto più snella di quelle che avete originariamente e quindi questo si rifletta anche in termini di velocità quello che facciamo noi spessissimo è diciamo avere delle base dati diciamo con milioni e milioni di righe ma quando andiamo a costruire una dashboard facciamo un layer intermedio in cui andiamo a costruire una tabella o una vista magari lo facciamo a livello prototipale prima in una sandbox con le 3 4 5 6 dimensioni che ci possono effettivamente servire per quella dashboard quindi si aggregano tutte le altre dimensioni che non sono utili e semplicemente diciamo si costruisce una tabella che poi alla fine avrà un fattore 10 100 dipende poi dalle vostre analisi di righe e meno e quindi tutto quanto abbastanza più semplice c'è una cosa che io ho scoperto estremamente diciamo molto recentemente le performance io non so quante di voi le conoscono lo faccio vedere qua magari ho un consiglio che è super banale però su tableau c'è setting performance start performance recording io lavoro appunto da vari anni questo l'ho scoperto penso due mesi fa quindi mi sento di condivido perché magari non è una cosa proprio scontata che fa questo qua voi partite fate cliccate start performance recording poi selezionate vari elementi della vostra dashboard per esempio cambiate una data fate mostrate un tooltip cambiate foglio poi tornate fate stop performance recording e vi si apre una dashboard una dashboard costruita da tableau con tutti i dati che ha registrato tutte le informazioni che ha registrato durante la vostra operatività e quindi è una dashboard che voi potete analizzare per capire qual è la parte che vi sta rallentando cioè è un problema di sequel è un problema di dati è un problema di elementi grafici di filtri poi ovviamente va saputa leggere però ci sono vari risorse online questo è molto potrebbe essere molto utile poi ci sono alcuni elementi che che sono diciamo tipicamente diciamo come dire un po' sempre al centro dell'attenzione quando si parla di velocità allora la prima cosa diciamo pare che sia diciamo una delle più vi metto full screen le live quando avete un database live quindi una connessione live a un database e usate le custom sequel le custom sequel sono diciamo abbastanza impattanti stessa cosa per data blending data blending è uno strumento che potrebbe essere molto importante perché vi vero di fare un blending fra due data source che hanno un livello di dettaglio diverso e quindi diciamo voi al volo riuscite sul tableau a fare magari una join fra due tabelle che hanno un livello di dettaglio diverso e questo diciamo in realtà è da evitare il più possibile come si può evitare questo qui si può evitare facendo magari diciamo un appunto anche lì un livello intermedio di data model quindi una tabella in cui avete fatto questa join l'avete fatta proprio tramite sequel i filtri e sheet che mettete a livello di visualizzazione pure possono essere diciamo un numero di filtri un numero di sheet possono rallentare in modo considerevole la dashboard cosa potete fare diciamo invece per migliorare un po' la situazione allora visual filter visual filter sono diciamo i filtri io forse adesso su questa dashboard non ce l'ho però i visual filter sono quei filtri che voi diciamo ottenete cliccando un elemento della dashboard e questo tramite un action vi si trasmette poi sulle altre questo diciamo è abbastanza più veloce di un filtro normale usare connessioni di tipo extract e non live quindi diciamo non siate connessi direttamente dati ma il vostro tableau contiene al suo interno i dati e poi diciamo anche collapsible container diciamo una novità appunto delle versioni più recenti collapsible container sono dei container che possono apparire o scomparire quando sono in versione diciamo non come dire non visibile i dati non vengono caricati quindi non elabora quella determinata quella quel determinato container quella determinata analisi viene elaborata solo su richiesta stessa cosa anche sul tooltip quando avete una video un come dire un'analisi che si mostra sul tooltip quindi diciamo nascondete un livello di dettaglio se questo livello di dettaglio diciamo non serve da visualizzare subito cioè solo se serve un focus se serve un focus la persona interessata al focus clicca e magari gli aspetta perché diciamo era proprio espresso una specifica volontà parte di questi consigli io l'ho un po' trovato diciamo nell'ultima conferenza tableau dove c'è stato un intervento molto interessante di una persona proprio di tableau che ha dato una dashboard ha fatto anche una dashboard su tableau public che adesso provo a condividervi eccola qua poi vi giro il link questo dashboard contiene una serie di consigli su come migliorare diciamo le performance di una dashboard quindi qua in parte trovate diciamo quello che vi ho detto io trovate anche tanto di più molte di cose nella mia esperienza sono quasi un po' diciamo che magari non capitano tutti i giorni però può essere sempre utile conoscerle io vi ho riassunto quelle che appunto per me erano un po' le più importanti detto qui io chiuderei un po' il mio intervento diciamo ringraziandovi della partecipazione siamo ovviamente a disposizione per qualsiasi domanda sperando che che possano essere stati consigli utili grazie mille grazie Luca grazie Luigi eh sì secondo me è stato molto interessante entrambi devo dire che la parte tua di Luca ci sono mi sono in molte delle best practice che vengono raccontate da Roblo cioè vengono descritte da Roblo anche su del white paper tra cui il la prima domanda da farsi prima di cominciare un progetto è a chi è rivolta la dashboard se non sappiamo quella se non sappiamo questo in realtà non sappiamo che cosa fare perché una dashboard sui stessi possiamo fare diverse tipologie di rappresentazioni veramente diverse disegnare su una griglia è una cosa che io faccio sempre infatti utilizzo sempre la modalità tiled e sconsiglio sempre di utilizzare la modalità floating questo perché la griglia è quella che proprio ha impatto visivo è quella che ci aiuta tantissimo avere tutto ordinato e posizionato correttamente all'interno dei contenuti altra cosa fondamentale che spesso secondo me viene poco fatto è sapere in che formato deve essere fruibile la dashboard non solo desktop mobile ma giustamente come detto a te ci sono persone che guardano i dashboard solo in modelli da pdf dalla mail e quindi va strutturato ad hoc perché ovviamente un pdf non ha tutte le interazioni che possiamo avere con la dashboard via mobile quindi cambiando cambiando filtri o addirittura mettendo delle action o delle inizio in tutti il performance recording il performance recording è l'unico strumento sia desktop che server che ci consente di andare a monitorare una dashboard a livello di performance quindi solo tramite questo strumento sappiamo veramente che cosa sta andando bene cosa sta andando male a livello di performance ed è l'unico strumento che ci consente di dire ok qui in realtà ci sta mettendo troppo in questa fase devo agire in questa fase e anche tutta la fase in realtà iniziale che ci ha presentato Luigi su tutto il processo logico per riuscire a avere un dato sostenibile in realtà è fondamentale infatti Luigi volevo chiederti secondo te visto tutto il tuo processo dov'è che riscontri maggiori difficoltà non solo di parte tecnica ma anche di far capire che quando quando l'utente mi dà un dato deve essere comunque fruibile anche nel futuro e non solo stand alone ma la parte più difficile per me Davide è diciamo in un'architettura tradizionale quella iniziale cioè di interlocuzione con l'utente per la definizione dei requisiti funzionali già c'è proprio il primo blocco per capire come integrare la parte di applicativo con la parte di e di H è quella che diciamo di solito ci crea più problematiche però la riduzione dei tempi di cui parlavo prima è dettata anche dal fatto che la nostra idea è quella di spostare sempre di più questa parte verso l'utente finale ed effettivamente con utenti che sono molto schillati da un punto di vista tecnico tipo il team di Luca e Celle in questo abbiamo sicuramente abbiamo dei riscontri positivi in termini di sviluppo ci abbatte le tempistiche e soprattutto ci toglie anche un po' di lavoro visto che poi comunque il lavoro lato back è preponderante rispetto alla creazione della dashboard ci permette anche di togliere il lavoro e dedicarlo mettere un po' di attenzione sulla qualità dei dati e su come rendere poi disponibili i dati anche a altre unità organizzative ok grazie invece scusa volevo chiederti quando realizzate una nuova dashboard prima di mettere le mani in pasta comunque fate delle interviste verso gli utenti o top management su come lo vogliono essere fluibili su che cosa vogliono oppure semplicemente andate guarda allora diciamo quello che facciamo ogni tanto è magari disegnarla in powerpoint ma disegnarla diciamo anche brutta insomma fare uno sketch quello che può essere veramente diciamo il prototipo di un prototipo insomma per capire se diciamo quello che abbiamo in mente può rientrare diciamo dentro una presentazione no che poi diciamo di fatto la dashboard diciamo è molto simile a un slide di un powerpoint almeno il suo scopo potrebbe essere molto simile a quello e quindi vediamo se quello che abbiamo in mente riesce a entrare in una slide perché magari poi uno ha detto io ci vorrei mettere questo ci vorrei mettere quest'altro poi ci rendiamo conto che lo spazio fisicamente non c'è oppure verrebbe una consiglia di informazioni quindi dobbiamo un po' rivedere diciamo tutto il processo quello che facciamo ogni tanto è anche attraverso diciamo come dire una base dati che potrebbe essere fatta anche finta su Excel cercare di capire come vogliamo la tabella che poi sulla quale poi andrà a puntare la nostra dashboard perché magari i dati che abbiamo a disposizione hanno una loro complessità che va un po' come dire contenuta va un po' indirizzata e quindi non so se dobbiamo fare delle pivot se dobbiamo fare delle aggregazioni le facciamo magari a livello anche semplice di Excel voglio capire che dimensioni che dimensioni avere quali misure e poi diciamo costruiamo magari tramite SQL facendo join union tra varie tabelle che abbiamo sul data lake per arrivare a diciamo il nostro obiettivo in termini di di tabella finale che poi deve essere quella su cui punta la dashboard ok grazie se qualcuno dei partecipanti delle domande può alzare la mano io attivo il microfono oppure scriverle direttamente in chat se ho delle domande per Luca o Luigi ecco io ne avevo una per Luca e per Luigi nel senso che di fatto vabbè abbiamo visto un impianto di tableau con quasi un centinaio di dashboard giusto e con diverse centinaia di di report e peraltro con molte sorgenti dati di tipo custom giusto Luca quindi fate casomai ad hoc con viste e altro ecco nel nostro caso sì e in un contesto in cui diciamo tutta la parte di governance è molto di tipo self service quindi è delegata quindi non è centralizzata nell'IT ma appunto l'IT l'ha delegata praticamente agli utenti finali e alla e alla e ovviamente anche in modalità self service ecco tutta questa parte di governo in questo momento quindi il fatto appunto di sapere quali dashboard durano quali tabelle quali campi dove vengono utilizzati i certi asset abbiamo parlato di Excel ma abbiamo parlato appunto anche delle tabelle delle data lake eccetera in questo momento come le gestite cioè avete ad esempio ipotizzato l'utilizzo di tablo catalogue per supportarvi su questa cosa qua oppure utilizzate altri strumenti sempre di catalogue prima di passare la palla a Luigi che è sicuramente il più competente di me in materia però diciamo quello che facciamo diciamo il racconto che vi ho fatto è soprattutto per la parte prototivale nel senso che quando andiamo a fare queste tabelle custom sono tabelle che vivono durante la costruzione di un prototipo poi ovviamente c'è un'interfaccia molto forte con i colleghi di T e di H quindi il team di Luigi per portare in produzione quello che noi facciamo magari in casa diciamo sempre tramite SQL però diciamo poi diventa qualcosa che viene messo in produzione vi faccio un esempio quello che facciamo noi spesso sono delle viste su Impala si possono fare delle view quindi diciamo sono delle è come se fosse una query per spiegarlo anche a quelli che ci sono collegati che viene interrogata ogni volta che diciamo che viene poi diciamo si fa un come dire un'interrogazione su quella determinata vista appunto e quindi le viste sono molto comode perché sono sempre aggiornate se la tabella a cui fa riferimento la vista ha un dato nuovo la vista automaticamente lo recepisce se invece faccio una tabella la vista diciamo se io faccio una tabella quella viene diciamo come dire frizzata in quel momento se entrano dati nuovi nella tabella sorgente io non li vedo nella mia tabella che ho costruito quindi quello che facciamo spesso è facciamo prima delle viste poi per una questione di performance trasformiamo le viste in tabelle che poi però devono essere anche aggiornate quotidianamente quindi il team di Luigi ci predispone magari dei batch che ci vanno ad aggiornare fanno degli insert di fatto su questa tabella con una velocità che può essere quotidiana generalmente in realtà scusa Luca poi aggiungo qualcosa la domanda di Pietro ha centrato proprio il punto diciamo su una problematica che secondo me esiste al momento che è quella di un'assenza di un catalogo ufficiale dei dati infatti molto spesso si fa difficoltà chi non è addentro chi non vive quotidianamente l'enterprise da tabba a sapere in quale tabella andare a trovare un determinato dato però proprio in quest'ottica Pietro diciamo è nata anche un'altra unità organizzativa che è organizzativa al di fuori dell'IT che è Data Governance che si occuperà proprio di andare ad effettuare questo lavoro di screening su tutte le tabelle e su tutte le fonti dato aziendali non so se utilizzeranno tablocata logo o meno però l'auspicio è quello sì sì perché vedo che diciamo l'esigenza sempre più in realtà molto strutturale come possono essere le vostre in cui chiaramente oggi stiamo parlando di 100 dash però probabilmente tra un anno parliamo di 200 e è chiaro che la necessità di tracciare di avere traccia del dato diventa sempre più importante anche per capire quale sorgente dati è certificato poi adesso casomai dopo vediamo anche qualcosina giusto giusto per per capire appunto di cosa stiamo parlando perché comunque è chiaro che la necessità di tracciare il dato è capire se stiamo lavorando sul sorgente dati come diceva giustamente Luca che è ancora in test e che quindi è ancora in farmacia prototipale piuttosto che è invece certificata piuttosto che sotto manutenzione o quant'altro e avere questa visibilità diciamo su tutto lo stack dell'ABI quindi sia su Tableau SER ma anche su Tableau Desktop nel momento in cui gli utenti devono utilizzarlo piuttosto che nel momento in cui si va a vedere una dashboard è un fattore che sta appunto mettendo in evidenza diciamo il valore aggiunto proprio della governance della sorgente dati quindi è una cosa appunto che stiamo un po' riscontrando in tutti i clienti che giustamente in questo momento stanno crescendo come mole appunto di impianto come mole di numero di report di sorgenti e altro ma anche perché Pietro diciamo quello che vedo molto spesso è che diciamo strumenti come Tableau hanno permesso sempre di più a diciamo utenti non IT di andare a essere quasi indipendenti con i dati e quindi diciamo anche io spesso mi trovo sempre là a ravanare su IDH a cercare quale tabella possa contenere un determinato dato farmi tutti i vari check quindi il catalog è un elemento fondamentale poi per rendere veramente indipendenti gli utenti sì al momento mi viene da dire che il catalogo è umano al momento però attendere diventerà digitale certo no no beh immagino poi alla fine sì c'è sempre un omino dietro tutto questo una memoria storica una mente direi che non ci sono altre domande per voi quindi io vi grazie ancora se poi durante le presentazioni nostre alla fine di queste presentazioni ci saranno altre domande comunque adesso vi è piato vi presenteremo perché secondo noi è importante aggiornare il tablo del 2020 quindi per ogni rivista del 2020 un po' vi racconteremo quelle che sono le principali funzionalità quindi Luigi e Luca vi ringrazio e ci risentiamo grazie mille ciao ciao grazie Davide allora condivido lo schermo io perché come vi ho anticipato io e Pietro vi racconteremo adesso perché aggiornare l'ultima pressione di tablo tablo sostanzialmente ogni anno rilascia una main release ed è ogni trimestre delle release intermedie e devo dire che negli ultimi due tre anni ogni release principale o secondaria che è stata rilasciata il tablo ha portato comunque una evoluzione molto importante a livello di funzionalità messa a disposizione è una crescita sempre più importante nel mercato e a volte per chi è molto impegnato in attività tecnica è difficile anche spesso essere aggiornati per questo ci siamo anche noi che vi aggiorniamo un po' periodicamente su quelle che sono le nuove funzionalità io mi occuperò principalmente della parte on premise quindi vi parlo di desktop e prep sostanzialmente Pietro poi mi racconterà tutta la parte server quindi cominciamo con perché aggiornare la tablo 2020.1 che è una release rilasciata a febbraio 2020 sicuramente per le vizanimation le vizanimation che rendono la navigazione di una dashboard molto più fluida rispetto a quello che era prima dove quando prima andavamo a spostare un filtro era tutto molto più incravattato i movimenti erano a scatto adesso andando a fare delle action o cambiando dei filtri diventa tutto molto più dinamico si muove tutto in maniera molto più armonica e questo sicuramente aiuta la navigazione della dashboard così come vedete in questo esempio altri motivi per passare al tablo 2020.1 c'è un miglioramento molto importante nei parametri nei parametri prima quando il valore di un parametro dipendeva da un determinato campo del nostro data source nei momenti in cui un domani ci fosse stata da aggiungere o da togliere un determinato valore bisogna farlo a mano da questa release in poi in realtà è possibile dire al tablo che ogni volta di workbook viene aperto di inserire nei parametri tutti i valori distinti di quel campo e quindi finalmente non c'è più bisogno di un lavoro manuale e questo insieme alle parametri action diciamo che ha reso ha veramente migliorato ha aumentato le potenzialità di tablo nel poter utilizzare i parametri che prima erano sostanzialmente molto statici e quindi venivano a volte solo utilizzati per magari fare uno switch di calcolo o di misure o di dimensione questa l'anticipo io ma probabilmente ve la racconterà anche Pietro da questa release in poi le credenziali a livello di tablo desktop e prep possono essere gestite direttamente dal tablo server quindi in realtà non sarà più l'IT che dovrà condividere la chiave di licenza al singolo sviluppatore ma a quel punto l'IT potrebbe decidere automaticamente di gestire lui attraverso il tablo server tutte le licenze che gli eter per quanto riguarda invece la tablo prep nella 2020 release 2020.1 sono state rilasciate le funzioni in level detail già presenti in tablo desktop e quindi sono state implementate anche in tablo prep questo ovviamente è un passo aggiuntivo e migliore per tablo prep lo rende sempre molto più funzionale aumentando sempre di più la sua potenzialità e rendendolo sempre molto più simile a tutti i campi calcolati che siamo abituati a scrivere con tablo e quindi per un utente tablo utilizzare tablo prep per la fase di data cleaning e data manipulation diventa veramente molto semplice tablo 2020.2 perché aggiornerà tablo 2020.2 release rilasciata a maggio 2020 questa a mio avviso è la funzionalità nuova rilasciata di più grande impatto in tablo nell'anno che sono le release per chi non ha avuto modo di lavorarci che non sa magari ancora che cosa sono quando in tablo quindi parliamo di tablo desktop andiamo a mettere relazione due più tabelle la classica operazione che viene fatta sono le join fare delle join significa comunque realizzare un livello fisico cioè che noi andiamo comunque a realizzare sostanzialmente un tabellone unico contenente tutte le colonne di tutte le basi dati che abbiamo messo in join e con numero di righe sicuramente maggiore o uguali al numero di righe della tabella più grande maggiore o uguali perché potremmo avere anche una duplicazione dei dati perché comunque quando mettiamo in join andiamo a mostrare comunque il livello più granulare del nostro dato e questo può a volte nei calcoli darci delle realizzarci delle difficoltà come potrebbe essere ad esempio un conteggio di valori distinti tra le slide che prima aveva presentato Luca tra le cose da evitare soprattutto quando molti dati sono molto grandi è fare un count distinct quindi un conteggio di valori distinti è stata rilasciata nel 2020.2 quella che viene denominata in livello logico cioè è possibile mettere in relazione tabelle quante tutte le tabelle che vogliamo mettere in relazione non significa andare a realizzare una tabella unica fisica contenente tutte le informazioni con il massimo livello di granulità ma significa che Tableau in funzione della query che va a fare intelligentemente capisce se interrogare una o più tabelle vi faccio un esempio banale noi abbiamo una tabella di etiana grafica come potrebbe essere ad esempio una tabella dei prodotti venduti in un nostro store è una tabella dei fatti cioè è una tabella che ci dice quante volte quando e quanto questi prodotti sono stati venduti quindi abbiamo una tabella di etiana grafica che ha un livello di dettaglio molto piccolo perché è il singolo prodotto e invece una tabella dei fatti dove c'è magari il prodotto che è stato acquistato quanto è stato acquistato e così via se noi andassimo mettere in join queste due tabelle il livello di granulità sarebbe quello della tabella dei fatti quindi se voglio sapere quanti prodotti tendenzialmente io vendo devo fare un count distinct della mia tabella di tutta questa join con le relationship mi basta dire di farmi un conteggio delle righe prendendo le righe solamente la tabella di anagrafica lui automaticamente non esibirà questa join farà una query migrata solo sulla tabella di anagrafica quindi sicuramente uno avremo un migliore impatto sulle performance avremo un migliore impatto nei calcoli e anche una grande facilità nei calcoli io per esempio per esperienza avevo delle tabelle di fatti che non si parlavano non parlavano oltre di loro non avevano dei campi in comune per parlarsi l'unico filo conduttore era una tabella di anagrafica ho realizzato delle relationship e a questo punto realizzare tanti grafici con provenienti di tutte queste tabelle di fatti a quel punto è stato molto facile andiamo ai concetti principali delle tabelle logiche e fisiche quindi ciò che li distingue le tabelle logiche possono essere correlate tra tra di loro e l'output finale in realtà non è una tabella unica ma è comunque dipende dalla quella che stiamo facendo al momento quindi nel livello di singolo worksheet per le tabelle fisiche possono essere collegate solo tramite join e quindi abbiamo come detto prima il tabellone unico contenente tutte le colonne al momento di campi che andiamo a nascondere con il livello di granalità massimo per le tabelle di logico ogni tabella mantiene il suo livello di dettaglio nativo parliamo di granalità il livello di dettaglio nella vista quindi nel worksheet che dobbiamo visualizzare nei nostri dashboard si basa semplicemente su ciò che andiamo a visualizzare per quanto riguarda invece tabelle fisiche il livello di dettaglio è quello della join le tabelle logiche rimangono distinte e separate come se fossero più tabelle quindi in realtà se ne facciamo la query mirata su una tabella comunque essa sia come per esempio vedete qui sopra negli award o negli author la query era eseguita solo all'interno di quella tabella se nelle tabelle fisiche in realtà lavoreremo solo sul tabellone con il massimo livello di granalità l'unica eccezione l'unico oggetto l'unico motivo per cui da questo momento in poi quindi da tablo 2 e dal 20.2 in poi viene consigliato di usare le tabelle fisiche è perché nelle tabelle logiche l'unico operatore di relazioni che si può utilizzare è l'uguaglianza mentre nelle tabelle fisiche nelle giorni possiamo usare qualsiasi operatore logico quindi l'uguaglianza è il maggiore il minore il maggiore uguale e così via questo qua sta rivoluzionando ha rivoluzionato comunque la fase di preparazione editati all'interno del tablo desktop e quindi in automatico anche nel tablo server se voi ancora non l'avete utilizzato io veramente risorto a me personalmente ha facilitato tantissimo tanti lavori e basti pensare per esempio a due risultati tra due tabelle dove da una parte bisogna fare una left join e dall'altra parte una con una right così dovremmo avere due data source distinte semplicemente quella che fa una left e una che fa una right andando ad utilizzare le relationship la nostra base di dati sarebbe comunque un'immola e questo è maggiori pay performance maggior semplicità e maggior semplicità di utilizzo detto questo per quanto riguarda invece la block prep cosa importante anche qui sempre a livello di performance è stato aggiunto il refresh incrementare quindi la possibilità di andare a raggiungere strati su strati di dati in funzione di dei campi come ad esempio potrebbe essere un dato giornaliero ogni giorno prendo solo il dato per esempio di ieri e non vado a recuperare tutti i dati e a ricopiarli ma vado semplicemente aggiungere il dato di perché passare al tablo 2020.3 release rilasciato ottobre 2020 c'è stato anche qui un netto miglioramento delle relationship mentre prima l'unico operatore era l'uguaglianza ad oggi abbiamo qualsiasi cooperatore l'uguaglianza la disuguaglianza è maggiore maggiore uguale e così via un'altra cosa che mancava rispetto alla relationship di tablo 2020.2 era la possibilità di scrivere dei campi calcolari proprio per utilizzare come i campi da mettere in azione tra virgolette i campi di join nel tablo 2020.3 possiamo fare anche questo quindi veramente di sorta non mai utilizzare solo i relationship che sono molto potenti un'altra funzionalità importante per chi come me gioca molto con le parametri action è il clearing il cleaning il clearing delle parametri action e questo che cosa significa? Significa che impostare un valore di default che quando non viene fatta nessuna azione niente viene selezionato nei nostri grafici è il valore di default che il parametro assume quindi vi faccio un semplice esempio qui abbiamo un'ipotetica dashboard dove abbiamo una mappa stiamo mostrando una trendline con il dato per l'Italia e un bar chart per diviso per categoria vi mostriamo per Italia nei momenti in cui andiamo a selezionare una regione tutto si aggiorna qui vedete anche l'animation tutto si aggiorna e verrà visualizzato solo l'informazione della regione selezionata come vedete nei momenti in cui sto deselezionando torno a un valore di default che ho impostato cioè il valore Italia il valore Italia è un valore che ho impostato nel mio parametro quindi nella mia parametra in action vado a dire quando non seleziono nulla nei miei grafici il valore che devi farmi visualizzare è il valore Italia e questo ha aperto veramente tantissime funzionalità nella visualizzazione e nel discovery dettagli ok in tablo 2020.3 è stato fatto un passo veramente avanti a livello di modelli probabilistici realizzati sostanzialmente sono stati implementati due nuovi modelli uno è il model quantile l'altro è il model percentile il model quantile è una nuova funzione che dato un quantile compreso tra 0 e 1 assegna un valore previsionale ad una funzione obiettivo che viene chiamata espressione target che dipende da tutti gli altri predittori che vengono inseriti nell'espressione quindi qui vedete come si scrive la nuova funzione model quantile apri parentesi si inserisce il quantile quindi un valore compreso tra 0 e 1 il valore target come potrebbe essere esempio se voglio fare un forecasting del venduto ci metto il venduto e quelli che sono tutti gli elementi che possono aiutare la funzione a fare una previsione con con una maggiore probabilità di correttezza per quanto riguarda la mia la mia previsione che voglio fare quindi può essere utilizzato sostanzialmente per due scopi uno quello per andare a fare delle previsioni future delle nostre di determinati eventi e quindi magari utilizzando un quantile uguale a 0,5 oppure utilizzando un quantile uguale a 0,95 stimare quali sono i valori limiti che definiscono i nostri variabili target generando quindi un intervallo di confidenza previsionale l'altra funzione è il model percentile che restituisce la probabilità compresa tra 0 e 1 che un valore futuro di un indicatore scelto sia minore uguale a quello realizzato qui vedete la struttura quindi sempre il valore target e i nostri predittori e può essere utilizzato per tre diverse utilizzi diversi cioè fissa la probabilità di avere in futuro un valore minore uguale a quello ottenuto evidenziare possibili correlazioni nei dati attraverso l'uso di predittori diversi quindi aumentando i nostri predittori oppure individuare direttamente le visualizzazioni dei valori che sono gli outlier cioè quelli meno probabili come magari potete vedere qua in questo grafico in questi valori arancioni queste noi stiamo già utilizzando anche per esempio per il budget interno della mia azienda e devo dire che sono delle funzioni molto importanti che stanno veramente utilizzando per vedere il budget futuro dopo 2020.4 che è l'ultima resi rilasciata che è esattamente di dicembre quindi un mese fa e la prima cosa importante è che sono stati migliorati ancora di più questi modelli predittivi realizzati quindi il modello quantile e il modello percentile andando a sviluppare altri due modelli primi intrinsecamente avevamo il modello lineare è stato aggiunto il modello gaussiano e il modello di apprendimento rinforzato quindi quando andiamo a scrivere le nostre funzioni di model quantile o model percentile attraverso questa istruzione model uguale GP model uguale linear model uguale RL possiamo dire quali dei tre modelli andare a utilizzare altra cosa realizzata sempre in modalità di analisi previsionale è quello che quando utilizziamo il modello quantile possiamo andare a dire su un'asse temporale quanto tempo oltre all'oggi andare a prevedere quindi nel nostro caso per esempio è stato aggiunto questo extended range data range una settimana due settimane un mese tre mesi un anno come vedete qui sta cambiando il nostro intervallo di previsione e può essere anche un anno oppure può essere anche customizzato quanto volete quindi in realtà possiamo dire da oggi in poi quanto vogliamo che il nostro la nostra previsione vada avanti altra funzionalità importante rilasciando da tableau 2020.4 il map layer cioè non so quanti di voi sono cimentati in questa problematica ma se io nella stessa mappa devo visualizzare tanti livelli di dettaglio diversi in realtà diventa tutto molto complicato con il tableau sostanzialmente potremmo farne due utilizzando il dual axis adesso è stato aggiunto il map layer quindi la possibilità di aggiungere tutti i livelli di dettaglio che vogliamo e quando parlo di tutti intendo tutti cioè infiniti vi faccio un esempio siamo sempre sul nostro classico superstore scusate sbriccio un attimo come base dati abbiamo il nostro dato geospaziale che è qua location posso magari dire che voglio guardare il dato dell'Italia lo faccio un po' per comodità quindi mi aggiungo il dato geospaziale per quanto riguarda l'Italia cambio tipologia di mappa magari voglio vedere il venduto e quindi lo metto nei colori dopodiché prendendo sempre un altro dato geospaziale vado ad aggiungere un layer quindi come vedete è stata aggiunta questa funzionalità qua aggiungo un livello di dettaglio che a questo punto è la città che però devo correggere ok perfetto quindi è stato aggiunto un altro dettaglio il livello di città dove posso mettere anche che ne so il size nel colore come vedete sta cambiando ve lo ingrandisco un po' magari gioco anche meglio un po' con i colori o rendo un po' più visibile perfetto faccio così faccio così ok quindi che cosa ho fatto in realtà all'interno di una stessa mappa ho aggiunto due layer due livelli di dettaglio che se li sto mostrando indipendentemente e attraverso questo menu che è presente qua in alto posso spostare un livello in alto in basso posso disabilitarlo posso dargli un nome parlante e posso anche nasconderlo o rimuoverlo questo in realtà per tutti i grandi smanettoni di tableau ha aperto una nuova strada anche per la visualizzazione di grafici un po' più custom questo perché utilizzando comunque dei dati geospaziali quindi andando a sfruttare alcune funzioni rilasciate nel credo nel 2020 che sono il make point trasformare un dato geospaziale in un grafico customizzato vi faccio un esempio banale chi di voi ha avuto modo a che fare di lavorare con delle sunbars in tableau sappiamo che realizzare una sunbars è abbastanza complicato e articolato adesso utilizzando un map layer è molto facile anche perché le mappe in realtà è possibile andare a nasconderle andando poi a giocare con quelle che sono le il layout della mappa quindi è possibile andare a togliere tutta la mappa visualizzare solo un punto e disegnare tutto quello che vogliamo detto questo queste sono quelli che secondo me sono i motivi per cui sarebbe molto importante aggiornare Tableau all'ultima release perché come vi ho fatto vedere lato desktop e prep ci sono delle funzionalità molto importanti molto utile e molto comode adesso lascio la parola a Pietro per la parte del Tableau Server ecco qui grazie Davide sicuramente molto molto interessante ok e condivido il mio schermo che così invece andiamo a parlare un po' di Tableau Server parlare di Tableau Server non è facile perché chiaramente Tableau Server ha sempre un po' di funzionalità sia dedicata agli utenti finali soprattutto sta diventando come potete vedere qui ho voluto usare in modo sono voluto partire con questa visualizzazione proprio per far vedere come nell'arco di un anno cioè dalla release Tableau 2019-4 2024 il numero di processi Tableau Server si è aumentato ok e chiaramente poi questi processi si portano dietro anche delle nuove funzionalità quindi è una piattaforma sia per gli utenti che la utilizzano sempre più in modalità self-service quindi sono aumentate tutte le funzionalità di web authoring si sono affiancate appunto anche altre funzionalità come Ask Data ok e altre e quant'altro appunto per gestire i contenuti anche sempre di più in modalità self-service e in modalità autonoma dalla parte IT ma dall'altro punto di vista cioè quindi dalla parte della governance e quindi dalla parte dell'IT la necessità di avere di avere delle funzionalità appunto che mi permettano appunto di sempre in modo più avanzato di gestire il controllare la piattaforma in incluso appunto tutta la parte di gestione dei dati l'accesso ai dati la tracciatura di dati di cui si stava parlando prima appunto con appunto con Luca e con Luigi e e anche chiaramente tutta la parte di performance allora mi sono divertito a questo punto per ogni release a cercare appunto di individuare tre motivi per passare al Tableau Server 2020.1 quindi alla nuova release del Tableau Server quindi tre motivi da una parte per gli utenti finali e dall'altra parte appunto per per la parte un pochino più IT quindi cercando appunto di bilanciare questi aspetti che poi casomai non sono alcuni di questi non sono così evidenti ovviamente ogni release ha rilasciato molte più funzionalità rispetto a tre rispetto alle tre che ho individuato però queste secondo me sono quelle che per ogni release a mio parere poi mi piacerebbe casomai sentire anche il vostro parere sono sicuramente quelle più interessanti allora partiamo dalla versione Tableau Server 2020.1 allora sicuramente dal punto di vista degli utenti finali da chi si occupa un punto della parte di realizzazione data visualization eccetera il discorso di avere abbiamo visto appunto che è stata rilasciata la funzionalità di avere le viz animation quindi avere le viz animate però dall'altro punto di vista la funzionalità del play button sulla parte di Tableau Server sicuramente a mio parere è stata molto utile questo lo dico perché è una funzionalità che già veniva richiesta dalla versione 7 quando ho iniziato a fare i corsi di Tableau ok e quindi la possibilità appunto di avere i dati in pagina di poter creare delle animazioni e poterle animare col famoso play button che è presente sul desktop e finalmente è disponibile anche sul server quindi apre nuovi scenari appunto per creare animazioni e visualizzazioni animate su Tableau Server l'altro aspetto che è a metà tra che invece riguarda poi più la parte di administration di Tableau Server è quella appunto relativa alla gestione delle permission per i progetti nidificati ok l'avendo appunto la possibilità di creare progetti e sotto progetti è sicuramente stato un passaggio storico appunto in Tableau Server così come però ovviamente il discorso di gestire i permessi sui progetti è un altro dei punti più critici per chi deve governare la piattaforma Tableau Server ecco da questo punto di vista la possibilità di bloccare i permessi a livello di progetto è sempre stata una soluzione per semplificare la vita a chi gestisce il sito piuttosto che il server e ovviamente con la release Tableau Server 2020.1 è stato appunto inserita la possibilità di poterlo fare anche sui sottoprogetti e quindi io posso creare la mia gerarchia di progetti e sottoprogetti e andare a impostare a bloccare i permessi per ciascun livello semplificando ancora una volta la gestione dei permessi perché devo dire che in tutte le release del 2020 c'è anche l'interfaccia per la gestione dei permessi è stata migliorata che è per renderla più facile più intuitiva che di fatto è uno dei punti più critici non solo nella gestione di un sistema di una piattaforma come può essere Tableau Server ma in generale la gestione dei permessi è sempre un po' critica sulla gestione di qualunque piattaforma infine il terzo aspetto che ha cambiato un pochino le carte in tavola per chi utilizza Tableau Server come piattaforma anche di data science è il discorso appunto del rilascio di TAPI 1.0 cioè il Tableau Python Integration Server 1.0 che è stato in beta fino alla fine del 2019 e delle Analytic Extension quindi come vedete qui nell'immagine con il nuovo TAPI che di fatto è facilmente installabile io posso appunto ho già a disposizione un Python Server già anche con librerie già preinstallate che posso estendere appunto con tutte le mie funzionalità che posso integrare tranquillamente in Tableau e poi posso utilizzare TAPI a questo punto come ponte ok come come bridge verso altre piattaforme di data science appunto di analytics avanzate di machine learning come può essere detto robot piuttosto che Amazon SageMaker o Algoritmia piuttosto che invece utilizzare le nuove Tableau Analytic Extension API che poi stanno a base appunto dell'implementazione di TAPI per andare a integrare direttamente altri altri sistemi o altri linguaggi e altre piattaforme appunto di programmazione piuttosto che di machine learning piuttosto che di artificial intelligence come MATLAB come Haskell e quant'altro ok la cosa ancora più interessante è che su Tableau e qui facciamo un click vediamo se funziona ok ok allora adesso in realtà sta cercando di aprirlo qua allora facciamo che ci spostiamo direttamente qui perfetta la cosa ancora più interessante è che con la Release 2020 anche tutta questa parte di di gestione della dell'integrazione di 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 estensioni analitiche è stata viene a questo punto gestita direttamente sul Tableau Server quindi io ho la possibilità sia a livello di Tableau Server quindi sotto la parte di gestione di abilitare le Analytica extension ok e successivamente poi su ogni singolo sito ok nei settings di ogni singolo sito ho la possibilità di aggiungere ok come vedete in questo caso una specifica Analytica extension quindi la connessione ad esempio a un R Server piuttosto che a un Tab Python piuttosto che a un MATLAB per ogni specifico sito quindi io posso gestire e configurare in modo ok dipartimentato creare le mie sandbox che poi sono i miei siti quindi fondamentalmente i miei contenitori logici di contenuti e all'interno di questi posso anche abilitare gli utenti come vedete qui a potersi connettere ok a un Tab Python piuttosto che a una Reserve piuttosto che a una qualunque Analytica extension supportata da Tableau ok o implementata tramite l'API di Tableau ok e quindi questo amplia ovviamente la possibilità e la facilità appunto di utilizzo di configurazione di Tableau sempre come piattaforma per la data science ok per quanto riguarda invece la release di Tableau Server 2020.2 ok sono tre anche in questo caso sono tre i punti chiave che ho individuato allora sicuramente il primo sono le metriche le metriche dal mio punto di vista non so chi di voi le ha utilizzate anzi mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi può anche alzare la mano le ha utilizzate e mi segnala oppure prendere la voce appunto per se le ha utilizzate ok dal mio punto di vista le metriche sono un po' un'anomalia nell'architettura generale di Tableau perché sono questi oggetti già pronti che Tableau mette a disposizione che vengono creati a partire da dashboard piuttosto che da sheet e ovviamente solo lato server ok e quindi e non possono essere poi successivamente modificate quindi peraltro sono impostate preimpostate dal punto di vista direttamente da Tableau allora le metriche però hanno come sempre in questi casi un vantaggio dal mio punto di vista cioè il fatto di essere semplici e molto veloci ma veramente veloci per cui secondo me ecco adesso vedete ad esempio collegato il mio smartphone secondo me soprattutto nell'ambito della navigazione mobile ok quindi qui vedete mi sto collegando con la con l'app di Tableau ok per per il mio smartphone il fatto appunto di il fatto appunto di avere queste matrix già disponibili che possono essere poi navigate con un semplice click e come vedete sono estremamente responsive quindi io quando le apre quindi sono anche estremamente veloci come vedete perché di fatto sono già precalcolate da Tableau Tableau si occupa appunto di aggiornare l'ultimo valore e di dare l'informazione come vedete sulla variazione rispetto al periodo precedente oltre a avere poi tutto il dato storico quindi di fatto nel momento in cui io voglio avere dare ai miei utenti dei semplici indicatori perché poi alla fine sono degli indicatori con delle informazioni ben definite quindi un trend un'ultimo valore una variazione rispetto al periodo precedente di fatto questa è una soluzione estremamente utile necessaria e soprattutto veloce però permette appunto di creare del creare appunto un layer di visualizzazione estremamente utile e secondo me lo è soprattutto sulla parte mobile e quindi soprattutto sulla parte mobile le metriche dove gli utenti di fatto hanno uno schermo limitato sono estremamente utili appunto per navigare il dato ovviamente a livello di indicatore poi chiaramente nel momento in cui poi c'è la necessità di andare a vedere il dato un pochino più strutturato partendo dal KPI ovviamente poi si fa sulla dashboard però è chiaro che poi il caricamento della dashboard come vedete in questo caso richiede casomai un pochino più di tempo soprattutto se la base sotto è lenta non è estremamente veloce o è molto ricca ok oppure se chiaramente si lavora su una connessione che casomai non è particolarmente performante l'altro aspetto interessante e questo sicuramente è stata insieme al discorso delle relationship è stata la funzionalità principale rilasciata nella versione 2020.2 un altro aspetto invece più strettamente legato a chi gestisce la piattaforma dal punto di vista delle performance è la parte di data acceleration questo è passato un attimino sotto tono cioè non c'è stata una grossa pubblicità da parte di Tableau e anche su questo mi piacerebbe capire se qualcuno di voi effettivamente sta utilizzando questa funzionalità la data acceleration fondamentalmente è un layer che è stato inserito all'interno di Tableau a partire dal 2020.2 proprio per migliorare le performance quindi di fatto gestito prevalentemente attraverso delle API Python esterne ma può essere utilizzato o implementato anche attraverso le REST API gli sviluppatori e gli amministratori di Tableau server hanno la possibilità appunto di migliorare le performance di determinate dashboard ok andando a precomputare ok come vedete qui a precomputare fondamentalmente i dati relativi a determinati workbook ok in processi di background e questo può essere fatto nel momento in cui la sorgente viene aggiornata ad esempio se è un extract oppure c'è la possibilità di andare a creare dei veri propri schedule all'interno di Tableau server appunto per precomputare questi dati con il risultato appunto di andare a velocizzare la visualizzazione appunto di queste dei workbook e quindi delle dashboard delle video appunto sottostanti queste sorgenti dati se questo cosa interessa in futuro appunto poi organizziamo un webinar tecnico proprio mirato su questa cosa qua perché sicuramente è una feature interessante che non è di fatto molto molto conosciuta appunto di Tableau server l'altro aspetto invece che secondo me è importante evidenziare sono tutti i miglioramenti che sono stati apportati alla piattaforma alla funzionalità Ask Data ok quindi fai una domanda di Tableau qui di fatto non sono solo tutte funzionalità del Tableau server 2020.2 anche se molti miglioramenti sono stati apportati proprio sulla versione 2020.2 ok e in particolare tutta la parte di personalizzazione di Ask Data quindi di fatto se qualcuno di voi appunto già utilizza abbiamo parlato prima di self-service vi quindi la possibilità appunto di andare appunto su data source pubblicate perché Ask Data chiaramente funziona solo su data source che sono state pubblicate le funzionalità che sono state introdurre poi migliorate nelle release successive la 2020.2 sono state ad esempio quelle di permettere all'utente di creare delle domande già da suggerire agli utenti finali ok e che poi l'utente di fatto può selezionare con un semplice click e visualizzarle quindi se io questa base data che è basata appunto sui crimini di Chicago dal 2010 al 2015 io voglio aggiungere una domanda che suggerire all'utente finale ad esempio il numero di reati ok di fatto io metto il titolo della mia domanda e poi a questo punto la risoluzione appunto della mia domanda che in questo caso serve sum of numero di reati che vedete che qua lui mi consiglia ok e nel momento in cui la salvo me la ritrovo appunto pronta qua ok vedete il numero di reati ok ho la possibilità poi di cliccarci e di numero di reati e di cliccarci e di vedere poi il risultato finale poi all'interno appunto della mia interfaccia di Ask Data ma mi dà anche la possibilità appunto di poter lavorare sulla sorgente dati che quindi vedete tra l'altro ha una modalità di navigazione e di visualizzazione del sorgente dati Ask Data che è sicuramente molto interessante perché dà dell'informazione che ad esempio Tableau Desktop anche in modalità web non dà ok ma io ho la possibilità anche di andare a personalizzare questi metadati quindi questi campi andando a definire dei sinonimi quindi ad esempio lo so tipo reato ok quindi vuol dire che poi potrò utilizzare questo sinonimo per fare le mie domande e addirittura andare a inserire dei sinonimi sui campi della mia sorgente dati un po' come posso andare a creare degli alias all'interno della data source di Tableau ok e questo di fatto Ask Data sta diventando un strumento sempre più interessante e soprattutto nel 2021 è previsto un ulteriore rifacimento quindi dello strumento per renderlo ancora più potente e quindi una nuova modalità di navigazione dei dati a livello server che va a affiancarsi al web authoring cioè quindi alla versione diciamo web del Tableau desktop passando al 2020.3 invece i tre punti che ho ritenuto sicuramente più interessanti in questa release sono sicuramente questi quindi il primo la possibilità di esportare le crosstab finalmente con la 2020.3 Tableau serverà nativa l'esportazione in Excel ok quindi non più CSV ma anche Excel quindi la possibilità quando io vado a selezionare la crosstab di poterla esportare anche in formato Excel e soprattutto il fatto appunto che viene mantenuta la formattazione della mia crosstab anche laddove appunto io ho creato una visualizzazione di tipo tabella quindi con righe e colonne soprattutto quando misure in colonna sappiamo appunto che l'esportazione su CSV non sempre appunto mi permette di ottenere il risultato desiderato ok soprattutto se ho impostato la mia tabella con un determinato formato invece finalmente con l'esportazione in Excel il formato e quindi la formattazione della mia visualizzazione sotto formato di tabella viene preservata e generata poi in formato Excel e questo a mio parere considerando anche tutte le richieste che hanno fatto dagli utenti che non sempre ovviamente che da una parte navigano chiaramente dashboard e tipo visuale però spesso appunto poi il dato di dettaglio viene visualizzato in tabella appunto hanno la necessità di poterla esportare su Excel l'altro aspetto importante nella gestione della piattaforma tablo server è questa piccola funzionalità qui di lato sulle subscription che mi permette di sincronizzare la mia subscription con l'aggiornamento del dato cioè se precedentemente io avevo i refresh dei dati dei miei extras vengono schedulati ok ma non è detto che in funzione del carico del server vengono eseguiti effettivamente nel momento in cui vengono 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 schedulati e successivamente io vado a schedulare una subscription che casomai viene eseguita dopo il refresh della data source chiaramente rischio di ricevere dei dati non aggiornati ok o per contro sono costretto a dover schedulare le mie subscription molto dopo l'esecuzione del refresh degli extract perché appunto per tenermi un certo margine di sicurezza invece con questa funzionalità finalmente io ho la possibilità di sincronizzare fondamentalmente i due i due i due meccanismi perché le due modalità praticamente possono essere sincronizzate da loro quindi io posso sincronizzare l'esecuzione del refresh dell'extract con con la generazione del subscription a parte di Tableau Server l'altro aspetto che aveva accennato invece Davide riguarda la parte di licensing anche questo a questo punto di vista Tableau sta dimostrando la propria maturità come piattaforma in tipo enterprise inserendo due nuove modalità di gestione del licensing cioè il licensing al sign-in quindi questo significa che io posso avere un pool di utenti molto maggiore rispetto al numero di licenze che ha a disposizione non sapendo a priori a quali utenti andare ad assegnare queste licenze io ho la possibilità di utilizzare questa funzionalità per fare in modo che le licenze vengano assegnate agli utenti solo nel momento in cui effettivamente fanno il login e si collegano e iniziano a utilizzare Tableau Server e quindi dal punto di vista dell'amministratore questo è sicuramente utile l'altro aspetto invece è il license management basato sul login questo riguarda soprattutto gli utenti creator se ho un parco di utenti creator significativo anziché dover gestire tante licenze per ogni singolo creator cioè per abilitare ogni singolo Tableau Desktop posso avere un'unica licenza server che ovviamente è assegnabile a un certo numero di creator quindi supponiamo 100 creator e soltanto e a quel punto il creator si attiva ok attiva la propria licenza desktop o la propria licenza prep desktop attraverso il login a Tableau Server quindi per l'attivazione non c'è più bisogno di una chiave dedicata per ogni singolo utente ma semplicemente attraverso il login a Tableau Server ok concludiamo con la versione Tableau Server 2020.4 devo dire che su questa versione qui ci sono state diverse aggiornamenti ho messo in evidenza due aspetti secondo me importanti che hanno subito degli improvement significativi allora dal punto di vista della gestione sistematica del Tableau Server finalmente è stata inserita la possibilità di gestire dei processi di tipo amministrativo in modalità schedulata e la prima cosa è stata fatta appunto la possibilità di poter schedulare di poter utilizzare lo scheduler di Tableau Server per ad esempio gestire i backup sicuramente è una versione iniziale ma è un primo segnale appunto di come Tableau Server si sta evolvendo anche in quella direzione dal punto di vista degli utenti e in generale da chi gestisce tutta la parte di preparazione del dato e di gestione appunto e di governo delle sorgenti dati ci sono stati delle migliorie significative soprattutto sulla quello che è il data management add-on in primis con l'introduzione del trouble prep on web cioè su web adesso finalmente a partire dalla versione 2020.4 gli utenti di tipo creator ok quindi non più solo quelli che hanno il tableau data management add-on ma gli utenti tipo creator che fino alla versione precedente avevano solo la licenza desktop di Tableau Prep hanno la possibilità su Tableau Server di poter come vedete qui creare un flow quindi con un'interfaccia web del tutto simile alla versione desktop gli utenti di tipo creator hanno la possibilità adesso dal desktop di poter pubblicare i propri flussi e a livello di server come vedete hanno la possibilità appunto di andare a creare ok dei veri propri flow ok interamente via web browser ok chiaramente poi l'output deve essere o una tabella di database oppure una sorgente dati che è pubblicata sul Tableau Server quindi questo ok cambia totalmente appunto l'architettura appunto di Tableau Prep che diventa a tutti gli effetti uno strumento integrato con Tableau Server gli utenti creator possono quindi pubblicare modificare e creare i flussi su Tableau Server ed eseguirli manualmente rimane invece la necessità di avere il data manager add-on laddove si vuole gestire diciamo governare i flussi in modo più strutturato quindi se ci vuole avere la possibilità di schedulare e monitorare l'esecuzione dei flussi a questo punto è necessario avere il data management on e questo chiaramente può essere utile laddove sono molti i flussi di prep in realtà se i flussi sono pochi si possono utilizzare anche le REST API per poterli eseguire programmaticamente dall'esterno di Tableau Server l'altro aspetto interessante che tengo per ultimo che riprende un po' il discorso che si faceva prima sulla governance delle sorgenti dati sono tutte le migliorie che sono state portate appunto alla Tableau che fa parte della suite della Done Data Management di Tableau per gestire appunto tutta la parte di tracciabilità del dato che da una parte ha reso più completo quello che è lo strumento lineage quindi quello strumento che permette di vedere tutte le relazioni padro e figlie che esistono tra gli asset che ho all'interno del mio Tableau Server che ho dichiarato all'interno del Tableau Server quindi tutti i database scendendo anche a livello di singole tabelle e però per ogni singola tabella io posso scendere anche a livello di singoli campi ok io posso sapere per ogni database tabella e campo dove quel campo è utilizzato ok sia nelle data source di Tableau che nei workbook che nei singoli sheet dei workbook sia nelle dashboard dalla 2020.4 anche nelle metriche e sapere anche quali sono gli owner di tutti questi contenuti che stanno utilizzando quel campo di quella tabella di quel database quindi di fatto lo strumento Lineage è uno strumento che mi permette in presenza di installati di Tableau Server di una certa complessità quindi con parecchie decine e centinaia di dashboard di report e di sorgenti dati di controllare praticamente e di avere un pieno controllo di dove tutti gli asset che siano database che siano files vengono utilizzati in tutti i contenuti di Tableau dall'altro punto di vista invece quello che si chiama invece come data quality warning ok Tableau il data management add-on ha migliorato tutta quella parte che riguarda la gestione dei warning e delle segnalazioni della certificazione delle sorgenti dati ok come vedete qui ho una sorgente dati in cui compare questo simbolino ok in cui ho segnalato appunto che questa sorgente è sotto manutenzione ok quindi fatto io ho la possibilità con il data manager addon di abilitare i warning su questa sorgente dati specificare il tipo di warning e dare ulteriori informazioni ecco con la versione 2020.4 questa informazione viene gestita sia a livello di Tableau Server come abbiamo visto un secondo fa ma questa informazione viene trasferita anche a livello di Tableau Desktop quindi nel momento in cui sul mio Tableau Desktop vado a connettermi a una sorgente dati che è pubblicata sul Tableau Server lui non solo me lo segnala la prima volta vedete qui quando mi connetto ok ma mi mantiene l'informazione viva ok ogni volta che io aprirò il mio workbook vedete e se queste informazioni cambiano quindi da asset in manutenzione diventa un asset in produzione certificato appunto il Tableau Server a me lo segnala e lo stesso tipo di informazione adesso ce l'ho anche in tutto quello che è collegato a questa data source quindi era da una parte nei workbook per cui io se navigo il mio workbook e vado a vedere il mio workbook la prima cosa che mi segnala la mia dashboard all'interno del mio workbook è che ho una segnalazione appunto sulla data quality warning relativo a questa dashboard e mi dà la possibilità di vedere il dettaglio di questo warning dicendo appunto che questa data source è in manutenzione quindi tengo costantemente aggiornati anche gli utenti della mia dashboard e dalla versione 2020.4 lo stesso tipo di informazione ce l'ho anche sulla mia metrica quindi se ho una metrica come vedete qui associata a una data source con delle segnalazioni avrò anche questo tipo di informazione sulla mia metrica ok quindi di fatto il data manager add-on è diventato veramente uno strumento estremamente utile e importante per gestire appunto la tracciatura da una parte il governo appunto delle sorgenti dati ok quindi sia per quanto riguarda il tracking di dove sono usati tutti questi asset sia per quanto riguarda appunto lo stato la certificazione di queste sorgenti dati o la manutenzione di queste sorgenti dati uno strumento fondamentale nella diciamo nella collaborazione tra la parte IT che gestisce le sorgenti dati e gli utenti finali che come ad esempio nel caso di Luca lavora in modalità service su queste sorgenti dati ok io ho finito mi piacerebbe sentire casomai qualche è tardi mi rendo conto ho sfarato anche di un minuto rispetto ai tempi che ci hanno dato vedo ci sono quattro domande in chat forse no era Laura che ci chiedeva della registrazione ok se avete delle domande ovviamente fatele se alzate la mano vi attivo il microfono altrimenti potete scriverle nella chat comunque la sessione è stata registrata è registrata e la tablone metterà poi sulla sua pagina youtube che io vi manderò il link sia sulla nostra pagina linkedin sia sulla mail che vi manderò questo perché vorrei mandarvi anche a tutta la community un form da compilare per i prossimi eventi ho un po' di idee che vorrei portare avanti anche un po' per rendere visto che dobbiamo essere tutti distanti però per rendere questo lavoro un po' più utile e fruibile a tutti c'è ora la sala di mano ok Luca guarda solo Luca Monno ciao domanda per voi ho visto Pietro nella tua slide che facevi vedere che c'era c'era una refresh schedule per le subscription no? che inviava quando i tagli sono inviati ma c'è qualche speranza per avere diciamo delle esatto la domanda non è proprio sulle subscription ma proprio sugli extract c'è qualche speranza di avere qualche regola un po' più vivace più dinamica per gli extract cioè noi abbiamo magari delle fonti dati che ci si aggiornano a metà giornata con tempi non ben predeterminati e quindi vogliamo anche evitare le connessioni live per il termine di performance che soluzioni ci sono che mette a disposizione da Blu da questo punto di vista? quindi tu stai dicendo appunto la possibilità non di schedulare il refresh quindi a tempo ok? ma di poter gestirlo come un evento ok? quindi ad esempio io faccio il refresh e l'extra soltanto quando si è aggiornata la mia sorgente live ok? allora al momento a livello di Tableau Server se non lo sviluppi diciamo programmaticamente perché tu comunque in ogni caso hai uno strato di API che può gestire questa cosa ok? quindi tu puoi creare lo abbiamo fatto anche per altri clienti ad esempio tu puoi creare degli schedule che sono disabilitati ok? e fare in modo appunto che nel momento in cui termina il refresh di quelle sorgenti dati dall'esterno venga attraverso un trigger piuttosto che attraverso un evento venga richiamato venga fatta una chiamata attraverso REST API adesso sto parlando un po' tecnicamente a Luca ok? però diciamo attraverso l'API di Tableau Server c'è la possibilità di lanciare l'esecuzione di questi schedule manualmente dall'esterno in modo programmatico ok? quindi in questo momento Tableau lo risolve mettendo a disposizione queste API che ovviamente devono essere gestite dagli utenti gestite in modo programmatico ok? ok oppure in alternativa questa cosa dovrebbe essere in qualche modo diciamo gestita vabbè chiaramente può essere gestita attraverso Tableau Prep però Tableau Prep è più uno strumento di data preparation quindi non è in grado di sapere appunto quando la la sorgente vi è aggiornata si può comunque se voi avete degli strumenti di ETL che gestiscono questo tipo di aggiornamento del vostro data hub poter integrare questi strumenti di ETL con le API di Tableau Server quindi aggiungere in fondo come ultimo passaggio quello di richiamare questi schedule programmaticamente forse viene già fatto non lo so nel senso che ok io ho visto voi avete talent non dovrebbe essere un problema aggiungere a talent questo tipo di passaggio finale e quindi appunto attraverso semplicemente una chiamata REST andare a eseguire gli schedule diciamo non a tempo ma sul request on demand ok in Tableau Server al momento dentro Tableau Server non ci sono altri meccanismi diciamo integrati ok ottimo grazie mille no ci mancherà siamo rimasti anche un po' pochino sono le 19.6 tanto sto